salve cari amiche e cari amici qui ancora una volta il nostro sant'inchan vi sto parlando da fuori casa in un momento di relax nell'auto vabbè questa vuole essere una breve parentesi poi non so se uscirà come premier quando come perché ma niente per dirvi che continuerò a caricare dei video se mi volete aiutare ad andare avanti abbonatevi al mio canale in questo modo io potrò menzionare i vostri video il vostro canale ci aiutiamo l'uno all'altro perché molti mi chiedono ma san come posso crescere in youtube come si possono divulgare meglio i miei video tu sai un metodo i tag gli hashtag la descrizione le miniature il titolo come posizionare meglio nei social media il mio video di youtube e io sempre rispondo loro ancora non ho chiuso la terza campagna di sponsorizzazione che dura da parecchio tempo mi sembra da più di un anno e con questa campagna vi do la possibilità a voi che vi abbonate al mio canale di di promuovere i vostri video il vostro canale ma anche le vostre attività in generale tanto sul web come lavorative non solo avete un negozio avete un'attività produttiva avete quello che volete e io promuovo la vostra attività capito abbonatevi al mio canale poi potete anche dare sotto il video c'è super grazie il bottone a forma di cuore ma anche negli short c'è super grazie e poi se questo video partirà come premier potrete sempre accanto c'è nella chat potete partecipare fatemi delle domande e io risponderò se starò presente con super chat e super sticker comunque se volete priorizzare le vostre domande abbonatevi al mio canale ciao